Le sedute del Consiglio regionale dalle elezioni di Luciano D'Alfonso, presidente, si sono sempre contraddistinte da lunghi, lunghissimi incontri, dibattiti partecipati e un'occesa opposizione a rendere le cose più complicate. In particolare, a fare le cosiddette pulci, ci ha pensato, e lo aveva già annunciato in campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle, che ovviamente ha mantenuto la promessa. L'ultima seduta di Consiglio, quella nel corso della quale sono state ufficializzate tre nuove cariche, il direttore generale, commissario ad acta e sottosegretario alla presidenza della regione, ha tenuto, secondo il racconto dei grillini, per ben 17 ore, presidente di regione, maggioranza e centrodestra incollati ai banchi fino all'ottenimento di un abbassamento dei costi. Abbiamo costretti a ridurre il compenso del direttore generale, quindi il direttore generale potrà prendere come un direttore di compartimento, maggiorato con una piccola maggiorazione. Siamo riusciti a costringerli a ridurre le spese di staff e di segreteria di tutti gli assessori del 30% e siamo riusciti a svuotargli la figura dei commissari, quindi i commissari possono sì essere nominati dal presidente della regione, ma senza oneri diretti e indiretti per la collettività. In più, una battaglia grandissima che voglio rivendicare personalmente, siamo riusciti a rimettere 100 mila euro per la lotta all'abusivismo. Avevano tolto questa somma, mi sono impuntato a ragione e i cittadini pescaresi, i cittadini di tutta Abruzzo possono adesso beneficiare di queste somme che andranno a sfrattare tutti gli occupanti abusivi delle case popolari che detengono queste case ormai abusivamente da troppi anni e delinguono troppo spesso, sono criminali pluri pregiudicati. 30% di spesa della politica risparmiata e l'ottenimento di fondi per lo spinoso caso delle case popolari che, come è noto, sono spesso predambita dalla criminalità, soprattutto sul territorio pescarese. Fondi che fino alla scorsa settimana sembravano destinati ad altre priorità. Quindi grazie al Movimento 5 Stelle, aria nuova, legalità, più legalità, ripristino appunto di una condizione di pace sociale. Ebbene, possiamo dirci parzialmente soddisfatti, però se ogni volta dobbiamo tenerli 17 ore in consiglio regionale, ecco, io dico, noi siamo disposti a tutto. Noi siamo disposti anche a farsi ammazzare per difendere il pubblico denaro, dipende da loro, quindi potrebbero tranquillamente le prossime volte accettare subito le nostre proposte e quindi non arrivare a questa opposizione ad oltranza. Quali erano stati per loro invece i punti per non accettare queste condizioni chieste dal Movimento 5 Stelle, per tenere davvero 17 ore aperta la discussione? Loro non volevano cedere, loro volevano una figura del commissario che appunto poteva prendere soldi, perché con questa operazione loro si vanno a fare la campagna elettorale, vanno a dare incarichi agli amici degli amici, magari ai trombati della politica e noi gli abbiamo tolto questa possibilità. Volevano pagare un direttore generale, istituire un manager e pagarlo lautamente, un manager infatti non viene per quattro soldi, quindi loro volevano pagare, ma noi che salvaguardiamo le casse della collettività, il pubblico denaro non gliel'abbiamo permesso.